Ciao a tutti e a tutti, bentornati in questo nuovo video, come vedete sono accompagnata da Desiree per chi non la conoscesse Saluta, piacere, ciao a tutti i nuovi iscritti E oggi faccio un video che volevo fare da un sacco di tempo, vi giuro saranno tipo 4 anni E come potete vedere dalla mascherina, la Blindful Challenge Quindi lei mi dovrà truccare bendata L'unica cosa che non dovrà fare, perché già sono mezza trucchettata, è il mascara, ho pure il mececa, qua alla fine, già ho gli occhiali, poi andiamo sempre peggio E le sopracciglia, perché diciamo che la aiutiamo un pochino Quindi ci siamo preparati tutti i trucchi che può usare qua Io naturalmente gli passo le cose, poi lei dove mette le mette, insomma questo è un altro discorso Mentre per gli ombretti andremo a caso, cioè così quello che prendi prendi Stessa cosa i pennelli, cioè li devi tastare per capire quali devi prendere Quelli del viso, li metto davanti E poi questi qui negli occhi, sono due questi piccoli, non te li conosci Ok, adesso io mi metto il cerchettino, tolgo gli occhiali E niente, si parte, ho una paura boia Non mi ciecare, eh Dì, ma lo stai spingendo? Spingo Spingi di più Ah! No! Che si spingi! Tutta la cosa sul sopracciglio Ma ti vuoi fare così sulle mani, prima? Non c'ho parole Oddio Che mi aveva fatto fare Vai Allora, in modo uniforme, ragazzi Oddio, le sopracciglie Allora, fondotinta No, dove vai? È questo piano Ok, fondotinta Questo qui La spugna No No! Pennello No, 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 no Ho salutato i sopraccigli Ho bello messo Io ti sentmo Ti devi impegnare Non sugli occhi Fai piano Bene Ho messo bene Ma io ti ne so Ci vedo peggio da te Mi metto il filtering dentro Od io c'è il periodo Un medirò senza naso Un correttore Ok Un correttore, quindi Eccolo qui No No, con la spugna Antenta Devi bene capire dove stanno gli occhi, mi raccomando Desi, capisci bene dove metterlo Brava Desi Devo dire che ha un ottimo senso dell'orientamento Nooo Ma sugli occhi Ma sugli occhi Apri signora Dove sta toccando, non capisco che punto è Possiamo questa di Kiko Fondo tipo compatto, mezzo compatto Oh, ho preso anche il pennello giusto Beh, questa dove la metti, la metti, fa bene dai Beh, l'ho chiuso i capelli perché Ragazzi, ci vedete se ho un po' di ricrescita Passerei gli ombretti Passerei gli ombretti Sì, ma prima degli ombretti c'è il primer Primer degli ombretti, no? Desirei, io chiudo gli occhi, te lo dico Madre santa Sto appellando, ho più pensato Sì, sì Ombretti mi sta cancellando le sopracciglia Io la devo aiutare però Ok, bene Quale vuoi, questa qui di Mulac O quella degli ombretti di Kiko Questi sono quelli di Kiko, li faccio vedere a voi E quelli di Mulac Questa qui è la di Friends Quelli di Kiko Kiko, sicura? Oh, anzi, facciamo meglio Te le avrò tutte e due Quella che becchi, becchi Dove sto pennella tra, giusto? Sì Ecco Oddio È abbastanza acceso E intanto l'ho preso un altro No ragazzi Questo qua andrà a perfeccionare tutto Ah, sì Mazza Proprio, guarda Ti dico una bellezza Io vedo solo una chiazza dalla videocamera Ma quando questo qua andrà a perfeccionare No, proprio No, è finito Ho pensato che è perfetto Due minuti Sì, e l'altro L'altro occhio, così direi E quello che mi faccio a servirgli io Anche questo Ma sì Hai riportato l'occhiaio al colore naturale Ecco Sì Dai, è tutto Ecco l'occhio, ho trovato Oh, è bello Ha trovato l'occhio Perché non ho visto un gran dopo questo trucco? Dov'è la terra? Non so dove stiamo inquadrando È il momento della terra Beh Ma sì, desirè Fai pure Il lume a Mediterra Poi la messa un po' qui Per la fronte Ah, ok Un po' qui Poi con questo pennello ti dico l'amore E poi dove, che cos'è questa cosa? Il mento per togliere il pappacoggia Non come me O che è un posto della città Un pennello E facciamo uniforme tutto Quell'avventaglio Eccolo Ma come quell'avventaglio? Così è l'avventaglio? Ma così togli tutto l'ombretto No, ma che non si trova qui Ora Abbiamo quasi finito Sono un Harley Quinn moderne La matina dei miei occhi c'è la signora Oddio Per fortuna Anzi Per sfortuna ne abbiamo addirittura due Scegli Poi lo sanno anche tutte e due Ma che odori È una matita L'occhio signora No, desirè Lo chiudo Io chiudo l'occhio Cosa stai sfumando? Quella è la perfetta Oh mio Dio Oh mio Dio Giuro io mi sto sentendo male Un rossetto bello scuro E il blush non lo usi? Vai di blush adesso Uso questo Vai Ma sì È proprio quella che stavo cercando Oddio Oddio Aaaaaah Ci vorresti male il giorno a scuola truccata? Forse è Halloween Sì Ma magari senza bandano Ma neanche Tempo Molto bene Adesso Adesso Rossetto Siamo stati In conno a di Kiko Che Penso quando vedrete questo video Sarà già uscita Però comunque Che colore sarà? Non lo so Tu non l'hai ancora vista L'ho visto solo io il colore Vai Però Quando Mi rambo Le labbra Fosse un colore delicato No Ah quindi è ancora più da me Qua sera vado così Ma Oddio Desire Desire Ma bene così? Ma guarda Io direi che siamo Ok Potrei vederti? No Fermati Allora Al mio 3 Guardiamo insieme Ok 1 2 3 Oh mio Dio Io l'ho detto Un Harley Quinn Moderna Allora A coprire i labbra È coperti tutte Per forza Perché vanno oltre Beh gli occhi Non c'è che fino L'hanno fatto Mi sono soddisfatta? Sono sugli occhi Adesso Forse la base Ma come sono sugli occhi? Quindi qua è la base Che bello illuminante Ti ho messo Ah sì Bravo Mi sono fatto E' un po' bianco Forse non ce l'ho messo Io è scioccata Ok Quindi questo è il look Creato da Desiree Scrivete qua sotto Nei commenti Come vi è sembrata Che ho fatto gli italiani Devi essere bravi però Mi prego Ci fanno male Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi al canale E thumbs up Mi raccomando E niente Noi ci vediamo Al prossimo video E un bacio Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.